Una bella notizia arriva dal territorio cilentano che ha festeggiato un altro centenario. A Serra infatti nella giornata di ieri nonno Carmelo ha spento le sue 100 candeline alla presenza del sindaco in fascia tricolore, del parroco e dei familiari. Una piccola festa nel pieno rispetto delle misure anti-covid che è stata anche l'occasione per consegnare una targa commemorativa al neocentenario. Le foto della piccola cerimonia sono state postate sulla pagina facebook ufficiale del comune guidato da Franco Mennella. La dolcezza, l'affetto e la lucidità di nonno Carmelo, si legge nel post, hanno emozionato tutti. Alla loro generazione dobbiamo veramente molto e aver avuto il privilegio di rappresentargli il sentimento d'affetto e gratitudine della nostra comunità è stato per noi un motivo di grande orgoglio. Nel fare gli auguri a nonno Carmelo per i suoi primi 100 anni l'amministrazione comunale ha dunque donato una targa in ricordo del compleanno. Grande gioia non solo tra gli amministratori e i familiari ma anche in tutta la comunità di Serre per l'ambito traguardo dei 100 anni di nonno Carmelo che nell'occasione ha voluto ringraziare tutta la sua famiglia che in questi anni gli è stata sempre accanto. Nonno Carmelo ha poi avuto parole grate anche per tutti coloro che si sono presi cura di lui negli anni, medici, infermieri e operatori sociosanitari e per l'amministrazione comunale.